Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nel corso dei primi 5 mesi del 2022 sono state quasi 3 milioni e 400 mila, con un incremento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo rende noto l'osservatorio IMSS sul precariato. La crescita ha interessato tutte le tipologie contrattuali, risultando più consistente per le assunzioni intermittenti e per quelle stagionali. Aumenti significativi anche per il tempo indeterminato, per l'apprendistato, per il tempo determinato e per i somministrati. Le trasformazioni da tempo determinato tra gennaio e maggio sono state 306 mila, in aumento del 71% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le cessazioni sono state 2 milioni 642 mila, in questo caso l'incremento è del 44%. Risultano in aumento tutte le tipologie contrattuali. Nei primi 5 mesi del 2022, rispetto al corrispondente periodo del 2021, tutte le tipologie di rapporti di lavoro incentivati presentano una significativa variazione positiva. La più consistente in termini percentuali è l'esonero giovani, più 62%. È stato approvato all'unanimità dal direttivo della Banca Centrale Europea lo scudo antispread proposto dal capo economista Philip Lane. Il Transmission Protection Instrument, come viene chiamato in termini tecnici, è uno strumento importante per aumentare la resilienza dell'unione economica e monetaria, che a causa della politica fiscale decentralizzata e della mancanza di mercati dei capitali e unione bancaria a tutti gli effetti, è ancora incompleta ed esposta a shock asimmetrici. Lo scudo, come si evidenzia nei verbali della BCE, è un passo decisivo per garantire la corretta trasmissione dell'orientamento di politica monetaria, che consente al Consiglio direttivo di adempiere in modo più efficace al suo mandato di stabilità dei prezzi. Il Paese che chiederà l'attivazione dello scudo si deve impegnare a portare avanti le riforme istituzionali al fine di affrontare meglio questi rischi. Per attivare la protezione, infatti, sono necessari chiari criteri di ammissibilità, un processo ben strutturato di funzionamento e condizioni per un'uscita dal suo utilizzo. Tutti fattori che permetterebbero una risposta efficace in caso di dinamiche di mercato ingiustificate e disordinate. I consumi degli italiani registrano segnali di ripresa a luglio, mostrando un aumento del 5,1% sullo stesso mese del 2021 e un avvicinamento ai livelli di consumi pre-pandemia. È quanto emerge dall'osservatorio Conf Imprese, IWI, secondo cui nei settori merceologici corre la ristorazione, che raggiunge più 9,7%. In sofferenza il retail non-food, che chiude a meno 4,6%. La battuta di arresto dopo i buoni andamenti durante la pandemia si lega al ritorno a un consumo fuori casa più ampio, con la riduzione dell'acquisto di beni legate all'arredamento e alla cultura. Nei canali di vendita al mese di luglio mostra la continua ripresa del travel, che chiude a più 39,7% rispetto allo stesso mese del 2021, ma rimane ancora distante dai livelli pre-pandemia. Continua la ripresa anche delle vie dello shopping delle grandi città, con il settore High Street che chiude a più 5,7%. Nelle aree geografiche il nord-ovest consolida i consumi a più 7,3%, seguito dal nord-est a più 3,3%. Il centro fa registrare più 7,9%, mentre al sud i consumi si fermano a più 0,9%. La Commissione Europea ha approvato il nuovo regime di incentivazione per la produzione di biometano. Il programma sarà finanziato attraverso il PNRR con 1,7 miliardi per sostenere la costruzione di impianti di produzione di biometano sostenibile, nuovi o riconvertiti da precedenti produzioni. Lo comunica il Ministero della Transizione Ecologica. L'approccio privilegia l'economia circolare e la riconversione riguarda in particolare la produzione di biogas connesso ad attività agricole. L'aiuto prevede un contributo del 40% sull'investimento e una tariffa incentivante sul biometano prodotto per 15 anni. L'accesso avverrà tramite aste che si svolgeranno dal 2022 al 2024. La misura rappresenta uno strumento qualificante per la decarbonizzazione di molti impieghi dell'energia ed è più che mai rilevante oggi, in un contesto in cui l'Italia è impegnata a ridurre il consumo di gas naturale e la propria dipendenza da fonti energetiche estere. Dunque il biometano come vettore per ridurre le emissioni di CO2, contribuendo allo stesso tempo all'efficienza e alla sicurezza energetica. Dopo l'approvazione del regime di aiuto sarà adottato il decreto attuativo della misura PNRR.